Tutti i video seminari di Raffaele Fiore nella versione integrale sono ora disponibili nel nostro shopping online o nei link in descrizione. Carissimi, ci ritroviamo un'altra volta insieme. Bentornati alla libreria esoterica Cavour. Cavour ringrazio con grande deferenza, grande affetto e stima il lavoro approfondito e continuo della nostra carissima Elisa Martinelli e del suo cast che sta facendo veramente cose mirabolanti. E ringrazio voi la vostra attenzione, soprattutto credetemi, io leggo i vostri messaggi, sapete quanto sono preso dal lavoro e da tutte le altre faccende, ma raccolgo con molta attenzione i vostri suggerimenti. Mi sono veramente molto preziosi, sono veramente il timone che governa la nave di quello che facciamo su questo canale. E poi soprattutto sento forte il vostro abbraccio e sento forte l'abbraccio di tutti quelli che lavorano qui insieme a noi. E vi dirò che recentemente tra l'altro abbiamo fatto un nuovo webinar, avrete trovato la pubblicità della seconda puntata, ce ne sarà ovviamente una terza perché come tutte le favole una fase finale in cui si completa un discorso va fatta e lo faremo più in là, vedremo quando con i tempi della libreria, questo non è un problema, non dobbiamo avere il fiato sul collo. Ma io vorrei entrare subito in tema della nostra giornata di oggi, anche perché non siamo molto distanti dalla Pasqua e questa cosa ha veramente molto a che fare, sia con la Pasqua che con il messaggio e il linguaggio cristico. Tra l'altro chiedo scusa a Giorgio Rossi che immediatamente aveva accolto nel mio ultimo video un'imperfezione imperdonabile, avevo fatto un piccolo bisticcio per cui sembrava che avessi fatto confusione tra il battesimo dell'acqua, quello fatto da San Giovanni a Gesù Cristo nel Giordano, e la Pentecoste che invece avviene dopo la crocifissione, è stato solamente perché volevo mettere troppi argomenti, gli chiedo scusa perché so che lui è dotato di una severità rigorosa, molto rigorosa, e questo veramente è l'argomento centrale dei nostri lavori e vi posso anche assicurare che questo ci eviterà, per esempio, che quando mai dovesse ripassare Gesù dal Tempio di Salomone non prenda nuovamente un bastone in mano per distruggere i banchetti dei commercianti. In giro nel mondo ce ne sono molti che sfruttano la scia dell'enfasi spirituale e religiosa, confini un po' diversi, oserei dire, dai nostri. E chiudo l'argomento, non era una polemica, però è una soddisfazione, diciamo un piccolo nostro vanto quello di avere all'interno del nostro cast e delle persone molto preparate a cui io mi rifaccio costantemente. Ma perché il messaggio pasquale? Perché io leggo costantemente, come vi ho già detto più volte, i vostri suggerimenti che mi sono molto utili, i vostri apprezzamenti che sono il vero carburante del mio lavoro, le vostre interpretazioni che sono a volte più geniali delle mie e soprattutto entro in un tema che qualcuno mi ha proposto e che non è un caso che mi è stato proposto in primavera, perché è il caso che riguarda la funzione dell'occhio. Soprattutto mi è stato chiesto di parlare di glaucoma e mi fa piacere parlare di questa patologia, perché io ho sempre avuto, scusate il bisticcio, un occhio di riguardo per l'oculistica per una ragione che adesso comprenderete molto bene. L'occhio richiederebbe anni di analisi, richiederebbe anni di dissertazioni. Tutto ciò che avviene all'interno dell'occhio, sia dal punto di vista clinico, sia dal punto di vista fenomenologico, che dal punto di vista spirituale, è fondamentale il fatto che si abbia un occhio che ha una duplice funzione. Vedete, per me l'occhio è una sorta di divinità, un giano bifronte che nasce con una funzione duplice, quella di guardare il mondo, di osservare i misteri del mondo, di interpretare i misteri del mondo e di guardare l'interno di noi. Quindi dobbiamo capire che l'occhio assume in sé dei misteri vastissimi. E perché c'è attinenza col mistero pasquale? Beh, è molto chiaro. Gesù Cristo, proprio quando arriva a Gerusalemme, quando sta per affrontare l'ultima parte della sua predicazione, e anche quella più conflittuale, dove vedremo anche delle dimensioni abbastanza, come posso dire, ricche di tensione, non solo nella crocifissione, ma anche nel conflitto con i prelati, con gli scrivi. Lui decide di guarire un cieco dalla nascita. E Dio mio come lo fa? Lo fa in modo sublime. Perché prende della terra, c'è questo cieco dalla nascita, quest'uomo che non ha mai visto la luce, non ha mai visto la luce, non ha mai visto i volti degli amici, non ha mai visto i colori, non ha mai visto le onde del mare, i riflessi, non ha mai visto nulla? Voi pensate che tale shock può essere una guarigione di questo tipo? E Gesù prendendo della terra e sputandoci dentro, cioè animando la terra con quell'elemento generato dalla sua stessa bocca, quella che proferisce le parole sante, impasta questa sostanza, la spalma sugli occhi di questo cieco e guarisce quest'uomo cieco dalla nascita. Voi sapete che i miracoli del Cristo, per quanto molti dicano, come giustamente dice Max spesso nei suoi video, non devono essere l'unica motivazione che ci tiene legata alla sua figura divina, ma sono sicuramente eclatanti perché irripetibili da chiunque altro, risuscitare un morto dopo tre, quattro giorni, capite? Un cieco dalla nascita, generare l'occhio in quell'uomo. Che cosa significa? Addirittura in quel momento, in quel passo del Vangelo, c'è questa domanda che sorge spontanea, ma che cosa può aver fatto di male quell'uomo o quella famiglia perché lui fosse cieco dalla nascita? E la risposta del Cristo è ebbene, forse proprio perché, forse lo metto io, lui non avrebbe mai detto, non c'era dubbio nel Cristo, ovviamente, no? Diciamo, noi interpretiamo così perché quell'uomo doveva farsi testimone della potenza di Dio in quel momento, di poter dare la luce agli occhi, capite? Di dare gli occhi e la luce agli occhi e la luce cos'è? E la verità. Guardate che se noi vogliamo affrontare bene, anche dal punto di vista psicoanalitico, anche dal punto di vista dell'isteria, se noi vogliamo veramente capire che cos'è una patologia oculare, dobbiamo mantenere un parallelo costante con la verità. Lo capite quello che voglio dire? La verità. La verità con la V maiuscola, la nostra verità interiore. E quindi dobbiamo capire che nel miracolo del cieco dalla nascita c'è un discorso di visibilità, di capacità di vedere la verità. E allora lì che nasce una potente diatriba tra lui e gli uomini colti. Prima di tutto che gli contestano, come sempre, di guarire il sabato, quando il sabato dovrebbe essere divinamente dedicato al riposo. E come al solito Cristo si ripete che il sabato non è stato fatto, che il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, ma capite che come gli psicanalisti vanno ripetute le cose agli stolti più volte. Ma la cosa incredibile è che lui, quando gli viene detto di aver fatto un miracolo, probabilmente, che non era nemmeno così spettacolare, lui dice io sono venuto a ridare la vista a chi non l'ha e a levarla a coloro che credono di averla. Noi da che parte stiamo di queste due categorie? Da che parte stiamo di queste due categorie? Siamo nel mondo? Nel mondo che c'è fuori da questa finestra? Siamo nel mondo che ci dà determinate informazioni, determinate seduzioni, determinate convinzioni, determinate leggi? Siamo dentro a quel mondo lì? Vogliamo servire quel padrone lì? O siamo dentro a un altro mondo? O cerchiamo un altro mondo? O la nostra fede ci porta a cercare altre verità? Quelle interiori? E allora se facciamo questa scelta forse abbiamo una buona probabilità che la vista ci venga data, cioè vedere la verità delle cose, mentre agli altri che già c'è chi sono non verrà data alcuna vista. perché ci vuole una fede di fondo, un affidamento, un affidarsi, un lasciarsi cadere nella rete della verità. Ed è questo che ci insegna il miracolo del cieco dalla nascita. Il cieco vede Cristo e quando Cristo gli dice ma tu veramente credi che io sia il Signore? Lui lo guarda e dice sì, io credo. E allora lui capisce che quell'uomo ha visto la verità del mondo, mentre agli altri spettano degli attributi poco simpatici. Sembra proprio che il Tempio di Salomone lo renda finalmente come posso dire fortemente mi verrebbe da dire aggressivo ma non è Cristo non è aggressivo è determinato in quel punto lì sente che lì si gioca la partita della verità. Ecco, quando noi ci troviamo di fronte a una patologia della vista ne ho viste tanti in questi anni cinemateria con diagnosi senza diagnosi di tutti i tipi e io non sono un oculista però non si può ignorare il messaggio psicosomatico che viene dal mondo dell'oculistica. Per esempio quando noi ci troviamo di fronte a un occhio noi crediamo di avere di fronte soltanto una telecamera niente di più errato l'occhio non è una telecamera l'occhio è un seme è un seme quindi deve generare qualcosa per esempio in ebraico in ebraico occhio si dice ein e ein è l'ideogramma stesso della lettera questa lettera ebraica questa parola ha un valore numerico un valore numerico di 70 sapete che ogni tanto faccio questi riferimenti all'ebraico perché è una lingua veramente straordinariamente magica arcaica antica piena di verità anzi oserei dire che c'è solo verità nient'altro non ci sono fronzoli c'è solo azione e verità cos'è questo 70 questo 70 come valore simbolico del numero lega questa parola per esempio nell'alchimia all'opera in nero sapete l'opera in nero è quel momento in cui tutto il nostro mondo crolla tutto il nostro mondo va in cenere tutto deve essere mandato in cenere perché possa risorgere come la finice il cieco che comunque ha un'identità di cieco che fa il cieco che chiede l'elemosina ma che proprio per questo deve affrontare nel momento in cui Cristo gli mette le sue mani sugli occhi e gli fa male sentire quella cosa sui propri occhi gli fa male in più che è cieco in più che chiede l'elemosina in più che è un uomo pietoso un uomo buono e sta ulteriormente soffrendo sta entrando nell'opera in nero perché vedrà la luce la vedrà e la vedrà nell'interprete nel padrone della luce in colui che è la luce di fronte a lui lo vedrà questa è una cosa che mi ha sempre impressionato da morire quindi Ein che è anche una lettera in ebraico ha valore 70 e l'occhio quindi in ebraico è tutt'altro che un organo è un seme è uno spermatozoo è un uovo è un elemento generativo alla base del nostro cervello con questo chiasma che incrocia le fibre da una diramazione straordinaria una pioggia di neuroni che arrivano in ogni punto della nostra memoria della nostra corteccia ma non solo che raccoglie tutto dall'universo esterno così come lo raccoglie dall'universo interno questo è l'occhio e nella parola Ein c'è anche un altro concetto il concetto di sorgente pensate oggi che tutti siamo trionfi no e parliamo di fisica quantica di sorgente cioè l'occhio modifica il mondo l'occhio modifica non solo l'esperienza non solo la psicologia questo vuol dire poco tutto sommato e un po' lo sappiamo tutti che l'occhio con cui noi guardiamo il mondo cambia il nostro mondo interiore ma cambia anche il mondo esterno questo è l'atto magico dell'occhio lo capiremo fra poco quando approfondiremo la conoscenza di un piccolo aspetto perché oggi ci stiamo occupando proprio di un granello di sabbia del mondo della vista del mondo dell'occhio del mondo della visionarietà del mondo dell'immaginario ma anche dell'immaginale per cui l'occhio ha a che fare anche con una visione della profondità ha in sé questo aspetto questa evocazione le parole a volte in ebraico evocano degli elementi visionari proprio la profondità e l'aspetto generativo l'occhio partorisce l'occhio non solo raccoglie e accoglie il mondo ma lo partorisce lo ripartorisce lo restituisce non possiamo prenderlo sotto gamba come potremmo prendere una sopracciglia questo è un organo sacro sia che veda sia che non veda esempio Tiresia e quindi lo stesso concetto che vive nell'occhio è quello che l'occhio risvegliato è l'occhio del risorto colui che vede la verità del mondo è risorto c'è un altro simbolo di una lettera simile alla Ein che è la Zain che è uno simbolo stranissimo in cui è riportato molto bene in un testo di Anis de Sousanel è una freccia che trafigge una sorta di di disegno che appare come un tessuto perché l'occhio può trafiggere la verità della carne può andare a vedere ciò che sta dietro alla generazione della carne spero che le mie parole non vi risultino proprio completamente sconosciute perché perché dentro ognuno di noi c'è la predisposizione ad aprirsi a questo tipo di verità e forse se abbiamo una patologia che riguarda l'occhio forse potremmo in qualche modo comprenderla meglio se comprendiamo gli aspetti divini di questo strumento della visione ok ebbene questa questa freccia è proprio mi viene da pensare alla freccia del sagittario una freccia puntata verso il mondo dello spirito verso l'alto che vuole affrancarsi dalla realtà corporea pur non negandola ma che punta direttamente allo spirito e punta ad uscire da quella cecità e da quella oscurità che è stata generata dalla caduta nella materia tutto questo quando vediamo un vecchietto con la cataratta dovremmo ricordarcelo che non siamo di fronte a un oggetto organico a un mezzuccio un mezzo meccanico per guardare le cose per leggere per guardare la televisione no quello ci è stato dato per guardare il divino per farsi abbagliare dal divino perché forse San Paolo non ha una conversione di quel tipo qualcuno farebbe la battuta una conversione isterica fosse anche e se nell'isteria non ci fosse un potente afflato anche verso lo spirito perché non sono forse statiche le sante quando guardano verso l'alto non sono forse in un orgasmo fisico come quello per l'amato ma certo che è così è l'occhio che guarda l'amato fa dell'amato qualcosa di divino anche nella quotidianità e allora che cos'è quest'occhio che si ammala di una pressione che entra dentro di lui che aumenta dentro di lui è vero ci sono delle forme costituzionali che compromettono l'occhio e forse questo sarebbe materiale di competenza del professor Leonetti che capisce e conosce molto bene i meccanismi attraverso i quali nelle sfere superiori viene progettato il corpo della prossima reincarnazione ma noi adesso che siamo qui e dobbiamo parlare di una patologia come il glaucoma e dire sì se prendete questo quest'altro avete mai preso la pilocarpina oppure avete provato con le medicine naturali e entriamo in una diciamo in una dissertazione tra massaie non è questo che dobbiamo fare qui dobbiamo capire che lì dentro c'è un mistero anche nel glaucoma anche nel glaucoma sì perché nel glaucoma c'è è vero un piccolo intoppo c'è un canale che si chiude e che crea una discrasia diciamo uno sbilanciamento tra la pressione di una parte anteriore dell'occhio e la pressione della parte posteriore io cerco sempre di fare il traduttore nel momento in cui faccio il traduttore tradisco l'aspetto scientifico però dobbiamo capire che una pressione molto potente all'interno di un globo oculare finisce per comprimere una parte anatomica molto importante che è la retina che è una struttura nervovascolare che poi tradurrà tutto ciò che riceve in immagini e che usciranno poi e attraverso il chiasmo ottico attraverso il nervo ottico e poi attraverso il chiasmo e poi la radiazione ottica arriverà al cervello per essere percepito quindi se c'è un eccesso di pressione all'interno la vascolarizzazione sarà compromessa e quindi compromesso tutto il sistema nervoso della realizzazione dell'immagine e della traduzione dell'immagine e della trasmissione dell'immagine attraverso il nervo e questo è l'aspetto diciamo fisiopatologico poi per esempio sappiamo che il glaucoma se non trattato adeguatamente anche se ne esiste uno cronico che è il più diffuso e che di solito con le terapie ci si convive abbastanza bene ecco ce n'è uno invece acuto che può essere drasticamente drammatico se si manifesta troppo rapidamente troppo tempestivamente no? ma qual è la caratteristica di un occhio che non sa più determinare la propria pressione interna provate a pensare è come se ci fosse un liquido che non riesce più a defluire da una parte dell'occhio come se certi equilibri pressori non si bilanciassero più oggi sappiamo che esiste uno strumento da molto tempo che è il tonometro e che ci dice che una certa pressione indoculare deve essere compresa tra 16 e 21 22 insomma questi valori no? a volte la pressione in certe crisi sale molto di più sale molto di più allora non sarà forse che ancora una volta la costrizione il senso di claustrofobico della costrizione all'interno di modelli rigidi di modelli rigidi che non permettono a quell'occhio di fare ciò per cui è nato cioè vedere il divino cercarlo perlomeno e vederlo no perché noi siamo portati a una visione completamente diversa noi dobbiamo avere una visione tridimensionale della realtà tutte le altre dimensioni non devono avere accesso al nostro occhio e allora ecco che in alcuni di noi questo dà proprio all'occhio una funzione quasi esplosiva come se quel richiamo di acqua fosse un richiamo di emozionalità che s'addensa e non riesce più a drenarsi attraverso quel canale no a quel a quel piccolo canale a quel piccolo angolo del canale scleroirido corneale dove c'è questo intoppo pensate che per esempio un attacco acuto e voi mi verrete a dire che cosa può facilitare un attacco acuto per esempio la midriasi dell'occhio sapete quando la nostra pupilla s'allarga la midriasi dell'occhio sapete quando s'allarga moltissimo la nostra quando la nostra pupilla va in midriasi molto facilmente per esempio va molto in fretta in questa condizione per un'emozione imprevista nei confronti della quale ci troviamo sprovvisti di strumenti un'emozione imprevista oppure alla sera alla sera di una lunga giornata faticosa dopo una grande fatica una sera di una giornata stressante in quel momento può arrivare una crisi talmente acuta molto dolorosa per esempio con fotofobia cioè con difficoltà a guardare la luce con difficoltà a guardare la luce leggiamola in tutti e due gli ambiti forse c'è anche un desiderio di guardare la luce e un'impossibilità di guardare la luce la sera di una giornata faticosa e tutto questo si traduce molto spesso per esempio con una grande dolorabilità dell'arco sopraccigliare a volte a destra più frequentemente a destra perché sappiamo dalla medicina cinese che il glaucoma è in realtà una patologia dell'occhio anteriore in quanto patologia dell'occhio anteriore ha una forte attinenza con l'organo fegato quindi più facilmente si esprimerà a destra è una patologia dell'eccesso dell'eccesso emozionale ma anche dell'eccesso di lavoro dell'eccesso di richieste dal mondo dell'eccesso quindi l'omeopatia per esempio alatere dei rimedi particolari che tra poco vi citerò ma che non vi sconsiglierei nel modo più totale di usare in modo selvaggio c'è sempre nux vomica che è il rimedio dell'esagerazione quindi voi capite che tutto poi si esprime nel giro di poco tempo con una forte cefalea pulsante noi useremo dire da omeopati una cefalea da bella donna no? quante belle donne ci hanno prodotto cefalee di questo tipo scusate la battuta ma non è del tutto stupida in questo contesto perché c'è anche una forte componente erotica frustrata in un soggetto che ha una dimensione di ipertensione di ipertensione endooculare sapete come si dice in alcune tradizioni che le lacrime sono il sangue degli occhi il sanguinamento degli occhi è la lacrima mi piaceva moltissimo quando in Harry Potter nell'ultimo nei dolli della morte 2 Harry Potter raccoglie le lacrime di Python e attraverso le lacrime vede la verità che quell'uomo che abbiamo considerato un traditore per tutta la saga in realtà è il più grande eroe di tutti è il più coraggioso è quello che si è votato per tutta la vita a un amore sconfinato per una donna che non l'ho mai scelto che è la madre di Harry Potter questo è a volte gli artisti e gli scrittori riescono a cogliere la verità delle nostre patologie in modo commovente non ho un'altra parola non ho un'altra parola quindi non siate disperati voi che avete questa patologia curatela secondo le indicazioni gli oculisti io li adoro sono straordinarie hanno una grandissima sensibilità sono persone che molto spesso vengono dal mondo della sofferenza oculare non mi voglio dilungare su questo sono affidabilissimi proprio perché giocano con uno strumento eccezionale scusate il termine giocare ma l'ho detto all'inglese to play suonano uno strumento straordinario ne conoscono l'importanza fondamentale sanno quanto l'occhio non finisca con l'occhio organico quindi trattatelo meglio che potete ma non dimenticatevi della vostra componente emozionale proprio per quello che vi ho detto del glaucoma acuto poco fa perché poi sapete tutte le forme croniche in qualche modo ci danno dei tempi più lunghi per agire ma le forme acute ci danno meno tempo ma anche l'infarto ci dà meno tempo l'ictus ci dà poco tempo meno male meno male che esiste la medicina dell'urgenza meno male non crediate che tutta la medicina sia abitata da pensieri contraddittori come molti di voi mi scrivono no c'è una medicina salva vita ok e nel momento in cui salviamo la nostra vita noi salviamo il tempo residuo per fare anima per me questo è importante più anima facciamo da vivi e meglio è e l'occhio è uno strumento privilegiato dell'anima anche se vede poco perché come vi dicevo l'occhio è un giano bifronte non può mai smettere di guardare nelle due direzioni deve guardare dentro così come guarda fuori e quando qualcuno dice viviamo in un mondo d'immagine io rispondo sempre sì basta che non ci dimentichiamo che viviamo che viviamo in un mondo di anima e l'anima va fatta con lo sguardo interno e non con lo sguardo esterno ok e quando guardiamo dentro anche se qualcuno mi ha contestato qualche affermazione no scusate contestato no mi ha sottolineato dire come fai ad apprezzare tu che sei cristiano la figura della strega no che ho citato nel webinar eh caspita ma una strega che io posso vedere e con la quale posso parlare è una risorsa infinita è una donna che conosce la natura è una donna che conosce i rimedi è una donna che è in continuo contatto con gli elementi naturali è una forza se io riesco a scavare come diceva quello psicologo Coe andare nelle ultime stanze del mio inconscio e trovare la mia strega ma io divento una potenza della natura perché in quel momento sarò una donna felice e quindi non opererò mai a fin di male mai perché sarò una donna completa e a noi cristiani interessa che la gente non solo sia sana ma sia completa in sé che non venga mai imprigionata nelle forme di pensiero perché lì diventa cattiva e cattiva lo sapete vuol dire prigioniero dal latino allora per capire per esempio un po' di più che cos'è questo benedetto glaucoma per esempio in omeopatia ho detto che cosa posso dire agli amici quando farò questo discorso che cosa posso dire per fargli capire le caratteristiche di una persona che ha questa patologia caratteristiche a volte sgradevoli soprattutto per l'individuo che le vive più che per le persone che gli stanno intorno ma che cosa posso fare per spiegare questo allora ho detto beh io cerco uno dei rimedi più importanti e nell'omeopatia noi all'interno dei rimedi troviamo anche l'atteggiamento mentale per il quale si applica quel rimedio le patologie accessorie per il quale si utilizza quel rimedio e guarda caso è uno dei rimedi più importanti anche nell'occultismo il fosforus il fosforus il rimedio del fegato allora andiamo a vedere che cos'è il fosforus la caratteristica di un individuo fosforus qual è? beh quello di avere il fuoco il fuoco nel corpo brucia bruciano i visceri bruciano bruciano gli organi bruciano i sensi sanguina molto facilmente per esempio ha delle epistassi dal naso potrebbe avere del sangue nelle urine e noi tutti andiamo a cercare subito l'arteriola la venuzza che si è rotta invece questo è un elemento proprio del terreno di questa persona è una persona che spesso tende a un certo tipo di demineralizzazione il fosforico e poi il fosforico è come il cerino è oscillante vive sempre due facce contrastanti due facce contrastanti quella dell'iperattività e quella della quiescenza reattiva fra poco ci arriviamo per esempio nella fase di ipersensibilità quando il fiammifero si accende quando il fosforo prende fuoco a quel punto allora l'individuo diventa ipersensibile ai sensi non solo alla luce all'abbaglio ma anche al rumore anche al gusto all'olfatto addirittura a volte è così tanto eccitabile dal punto di vista sensoriale che diventa quasi un'allucinazione può esserci un'allucinazione in quel caso quindi il fosforo il fosforico nella fase di eccitazione è anche sessualmente molto eccitato ha le manie di grandezza soffre di insonnia dorme pochissimo voi mi direte un disturbo bipolare lasciate perdere queste definizioni entriamo in questo mondo lasciamo perdere le definizioni che non ci aiutano a capire niente cerchiamo di capire che ci sono delle persone che si accennano e si spengono dove possiamo trovarne uno ce l'avete davanti io sono un fosforico ok ce l'avete davanti volete vedere i miei figli sono tutti fosforici ce ne sono tanti anche tra i miei pazienti tantissimi e li riconosco dall'odore li riconosco subito e so che tipo di sofferenza hanno queste persone e so che per esempio non solo possono essere dei visionari non solo possono essere dei sonnambuli ma possono essere dei medium ecco perché ve ne parlo oggi qui all'esoterica possono essere dei veggenti ma al tempo stesso nella seconda fase quella dello spegnimento c'è l'apatia c'è l'indifferenza il fiammifero si spegne c'è prostrazione un eloquio rallentato la paralisi il tremore l'ipocondria l'impotenza sessuale prima c'era l'ipersessualità e poi subentra l'impotenza sessuale il fosforicum acidum per esempio ha un'applicazione in questo senso adesso tutti i maschietti correranno no perché se non siete fosforici sto problema non ce l'avete capite la grande sensibilità la grande sensibilità gli artisti che rimandano il concerto che crollano non giudichiamoli perché non sono professionali cerchiamo di capire che quella stessa caratteristica ha generato magari la sesta sinfonia poi il fosforo è un rimedio della voce dell'identità quindi per esempio i grandi insegnanti i grandi oratori ma i grandi insegnanti quanti dei miei grandi insegnanti pensate che io avevo un grandissimo insegnante che ricordo oggi con un grandissimo affetto di filosofia che era non vedente ed era una persona straordinariamente buona squisita ok e a volte ricordo che alla fine delle sue frasi andava spegnendosi la sua voce Dio gli voleva un bene incredibile mi fu molto vicino in un esame di maturità molto tormentato perché i fosforici ahimè sono tormentati che te devo dire sono così e quindi la laringite la raucidine la raucidine della sera la stanchezza di cui parlavamo della sera e per esempio sono quei soggetti che se ridono troppo poi gli viene la tosse si stancano facilmente e che poi peggiorano peggiorano se sono coriccati a dormire sul lato sinistro è un rimedio anche è un rimedio anche polmonare ed è utile anche nelle congestioni del cuore soprattutto quando quando il cuore soffre perché le basi polmonari sono congestizia e poi è un rimedio del fegato per esempio se una persona viene da me per qualsiasi forma oncologica tumorale oppure per oppure per qualsiasi patologia che ha a che fare con gli aspetti metabolici epatici il fosforus è uno dei rimedi è uno dei rimedi costanti quindi che cosa dirvi è un rimedio del sistema nervoso certo delle polineuropatie delle polinevriti delle paralisi progressive anche pensate pensate come ci possa essere un un costante una costante danza tra la la grande infiammazione e lo spegnimento la grande infiammazione e lo spegnimento la grande azione la grande stanchezza ecco il compito del terapeuta a questo punto non è quello di cambiare la natura dell'individuo anzi guai ci toglieremo un talento ci toglieremo un individuo che è irripetibile questo non lo dobbiamo mai fare contro natura noi se prendiamo una calcarea carbonica o prendiamo una lachesis non dobbiamo cambiargli la natura dobbiamo rendergli bella la vita dentro a quelle caratteristiche ok per cui lo aiuteremo a modulare a modulare la danza tra gli alti e i bassi tra i chiari e gli scuri tra la luce e il buio e allora si governerà si governerà e diventerà un grande creativo come Federico Fellini per esempio questi ambiti in cui c'è una grande oscunità notturna e poi una luminosità abbagliante ecco se voi avete sentito questa mia piccola e diciamo anche abbastanza superficiale analisi del fosforus capirete più o meno le caratteristiche di chi soffre di glaucoma deve modulare l'aspetto delle emozioni deve entrare in una dimensione buddica in cui non c'è più questa oscillanza costante in cui l'emozione non può più entrare come uno tsunami ma dovrà essere governata esattamente come nell'esercizio del tiaoxi del qi kung ok allora lì lì diamo un'opportunità a quell'occhio di ridistribuire meglio molto meglio e ve lo posso assicurare al di là del fatto che i farmaci sono fondamentali che i rimedi naturali possono essere veramente fondamentali anche appaiati a quelli tradizionali non è qui il luogo per fare una diatriba tra queste due parti ma finché l'individuo non saprà gestire questa danza armonica tra due parti di sé che si devono riequilibrare più costantemente col principio dei vasi comunicanti noi non otterremo quella trasformazione fondamentale che ci chiede l'occhio l'occhio ci chiede non di scendere a compromesso con la verità no ci chiede di votarci alla verità prima la verità interiore la verità dell'anima e attraverso di essa la verità del senso dell'affidamento è lì che si rivelerà il divino e a quel punto probabilmente il vostro glaucoma non sarà più utile non sarà più utile e francamente vi posso assicurare che nessuna patologia ha voglia di trattenersi come ospite indesiderato più di tanto se finisce la propria funzione così come chiarisce molto bene in uno dei suoi testi in un epitome Sri Yukteswar il maestro di Paramansa Yogananda a volte rischio di essere faraginoso in queste esposizioni e ve ne chiedo scusa perché sapete io sono un appassionato e giro i video proprio quando sto per accendere il fiammifero ok non so se Dio ha in servo per me qualche sorpresa agli occhi o da qualche altra parte non lo so non lo so so solo che da molto tempo io ho deciso di lasciarmi cadere nella rete dell'affidamento nella rete della fede ci saranno sempre due mani che mi sorreggono e ve lo giuro cari amici ci sono per ognuno di noi queste mani ci sono mani infinite che ci possono sorreggere auguro a tutti coloro che hanno disturbi oculari in questo periodo sapete siamo in primavera quindi è una stagione del legno il legno è fegato il fegato è occhio e quindi se qualcuno si trova di fronte a un abbassamento di vista drastico ha dei tempi discretamente medio-lunghi per lavorarci bene eh vi dico solo una cosa un giorno insieme a un carissimo amico un insegnante di Tai Chi che si chiama Urselli forse è una delle persone più belle che ho incontrato nella mia vita finì uno stage di una giornata con lui e mentre mentre ci salutavamo ho cominciato a sentire una sorta di vertigine e ero ero con mia moglie ero con altri con altri amici a fare questa esperienza eravamo nell'entroterra di Albenga qualche anno fa e ci siamo salutati stava stava per venire brutto stava per venire un temporale io adoro i temporali in Liguria li adoro sto sul balcone a guardarmeli e mentre andavo via guidavo in macchina e dicevo c'è qualcosa che non va io non vedo bene non vedo bene e allora a un certo punto ho detto no momento io non vedo bene perché ho gli occhiali ho tolto gli occhiali e ci vedevo benissimo fate conto che io ho tre diottrie per parte tre e mezzo da un occhio e tre in meno e mi sono accorto che quella giornata aveva cambiato la qualità della mia vista ovviamente da quel giorno io ho affrontato il problema su tanti altri livelli forse un giorno vi parlerò della dottoressa Ma e di quello che ha portato all'interno dell'agopuntura e del il Qigong proprio il suo lavoro sugli occhi sull'occhio sul meridiano dell'organo fegato e della cistifellea e sulla funzione esoterica che quest'organo ha dentro di noi che veda o che non veda ricordatevelo perché ciò che deve vedere l'occhio non è soltanto la realtà del mondo e grandi artisti che hanno patologie oculare nessuno la più bella rappresentazione vi abbraccio forte ci sentiamo alla prossima grazie ciao a tutti tutti i video seminari di Raffaele Fiore nella versione integrale sono ora disponibili nel nostro shopping online o nei link in descrizione di Raffaele Fiore di Raffaele Fiore grazie a tutti i video grazie a tutti i video di Raffaele Fiore